Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video con me! Allora, che dire, è tantissimo tempo che non faccio un video, non so se vi siete accorti che nelle ultime due settimane tutti i video che venivano caricati erano video in realtà tipo del 2019. Allora, la verità è che veramente mi scuso che non sono riuscito a fare video, però sono stato comunque piuttosto attivo su Instagram dopo che me l'hanno ridato, dopo che me l'hanno hackerato, ma in ogni caso ci ho avuto diciamo una serie di circostanze cose che mi sono successe che non mi hanno permesso di essere regolare. Primo fra tutti è stato il lavoro che veramente si sono ammassate una serie assurda di canzoni negli ultimi due o tre mesi che non mi hanno veramente permesso di poter fare nuovi video. Io mi ero preparato per fare per questa sessione 12 esami, anzi in realtà 11, poi però ho aggiunto un ultimo quindi sono diventati 12 esami per un totale di 96 cifù, che sono tantissimi. Questi sono tutti i riassunti che ho dato. Studiare all'università è per me un sogno che si realizza, che per via del lavoro non ho mai potuto realizzare. In particolare la specialistica a Ca' Foscari. Quello che volevo dirvi è che io mi ero organizzato di fare tutti questi esami per questa sessione e ritagliarmi del tempo per poter fare anche dei video. Tuttavia sono arrivati veramente questa nuova serie di lavori per quanto riguarda anche la Corea in realtà e non ce l'ho proprio potuta fare a stare dietro a tutto. Quindi vi volevo dire che mi siete mancati e veramente sono contento che finalmente sono riuscito a caricare questo piccolo vlog in cui vi saluto e vi ringrazio davvero per esservi sorbiti diciamo questo canale durante questi due anni e mezzo, anzi forse anche tre, forse anche tre e mezzo. In ogni caso vi ringrazio davvero se non... sicuramente se non ci foste stati voi a guardare questi video non sarei andato avanti per così tanto tempo quindi io davvero vi ringrazio e che dire io mi sono accorto che ho veramente tantissimi interessi e sto veramente prendendo strade diverse quindi ci sono delle novità per quanto riguarda la mia vita che non so fino a dove riuscirò a condividere con voi però cercherò comunque di tenervi aggiornati, se non qui lo farò comunque magari su Instagram o su Clubhouse, non so se qualcuno lo usa però sto cercando di usare anche quel social un po' più spesso e poi per il resto ragazzi sto intraprendendo un nuovo percorso, vi posso dire solo questo no ragazzi non sono entrato in una setta quindi tranquilli, niente di tutto ciò solamente vorrei fare qualcosa come ho detto in realtà su YouTube che possa fare la differenza non penso di riuscire a farlo su YouTube quindi mi sto spostando su posti diversi in ogni caso questo canale rimarrà e continuerò a caricare delle cose e cercherò comunque di incrementarle in tutto quello che sto facendo io davvero non so come si è riuscito a fare tutto questo in un solo mese cioè in questo mese sembra che sia passato un anno per tutto quello che è successo a livello lavorativo sia per quanto riguarda composizione, sia per quanto riguarda un'altra serie di cose di cui ve ne parlerò magari in un video futuro, sia a livello scolastico e anche a livello personale vi dico solo questo, ci sono state un sacco di novità mi fa davvero piacere che siete qui a guardare i miei video e io sto per finire la batteria e non c'è neanche più spazio nella memoria comunque quello... grazie e non sottovalutatevi mai perché veramente da una piccola cosa può succedere cose che nemmeno vi aspettavate mai lasciate un mi piace se volete altri video e scrivetemi qui sotto se vi sono mancato o se è meglio se mi ritiro e vado in pensione e smetto di fare YouTube ecco io vi saluto e vi mando un abbraccione e ciao ragazzi ciao